Andrea Damante manda uno striscione a Giulia Delellis che, dal giardino della casa del grande fratello Vip, lo abbatte senza pietà. Male anche l'iniziativa della sconosciuta che ha mandato aereo a Luca Onestini rimasto perplesso. Cecilia Rodriguez, invece, con il noto coraggio, si è fatta capire. Mercurio, il messaggero degli dei. Sai quanto solletico ti aspetta? 18 è il messaggio di Damante alla sua Giulietta. La giovane corre in giardino, lo guarda e dice ma siamo sicuri che sia per me? O per Bacco qualcosa è andato storto. La Deciuccis fa una smorfia infastidita e critica la deve smettere di essere così trattenuto e superiore. Potrebbe mettere da parte dalla alla 50 orgoglio e fare meno il figo. Spendi 1200 euro per scrivere sai quanto solletico, sì e poi? Mi fa piacere certo, ma dimmi quanto mi ami, quanto mi pensi, quanto mi desideri. Io non so niente, sono due mesi che non lo vedo. Tra tutte le cose che poteva dirmi questa cia? Apprezzo, però non era quello di cui avevo bisogno. Se fossi qui da dieci giorni è un conto ma dopo settanta avevo bisogno mi dicesse altro. Punto almeno i franchi tiratori parlamentari colpiscono e affondano nel segreto dell'urna. Sagace la risposta di Raffaello Tonone non si è mai contenti. L'aero vira e si allontana con la coda tra le gambe. Andrea Damante su Instagram Story svela non l'ha capita. Punto trattasi di linguaggio in codice che Giulia non ricorda. Punto Luca Onestini ha una fan misteriosa. Luca batti le mani, schiocca le dita, umore alto tutta la vita un successo inaspettato. Portatore di sana allegria e mai fuori luogo, specie con le donne. Ha costretto Raffaello Tonone a fare ginnastica e piscina e il grande fratello Vip si diverte a mettere in sottofondo il lago dei cigni. Intelligente e discretamente colto, piace sempre di più al pubblico. Pare, inoltre che abbia provocato in soleil un violento attacco di onicofagia. Da giorni, una fan invia striscioni al bomber vai e oggi ha lasciato la mail unk923chiocciolaoutlock.it. Vieni a New York? Luca è lusingato e al tempo stesso si cautella non so chi possa essere. Magari è uno scherzo. E infine Cecu Cecilia manda questo striscione non vedo l'ora di viverti. Mi manchi Nakito e quello grazie amore. Mi manchi anche tu, è l'aero più bello mai ricevuto. Nostalgia canaglia. Forse Montella non mangerà il panettone ma i ceciazio arriveranno a Capodanno. Perché poco dopo, Ignazio tra un body shaming e l'altro nei confronti di Ivana Ciccia di nome e di fatto, quanto sei ingrassata, guarda che guance enormi e quella dall'alto della sua lucida follia se guardi in basso tu riesci a vederti le guance. Lea carezza la coscia e dice Ciccia sono sei mesi che non ha notizie del ragazzo, non sa neanche come sta e Giulia gli ha mandato i saluti tramite la sorella. Moser Mudo leva la mano. Grazie a tutti.